Musica Un cordiale saluto a tutti voi, buongiorno, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV sul canale 17 alle 7.31 Siamo qui per sfogliare i quotidiani, tra poco lo faremo con il nostro touchscreen per vedere le notizie più importanti sul Carlino ed il Messaggero Allora subito il santo del giorno, oggi è Sant'Ommaso d'Aquino Sant'Ommaso, che cosa dire di questo grande santo, è vissuto nel XIII secolo, si formò a Monte Cassino, Napoli e Colonia Fattosi Domenicano, fu una straordinaria mente teologica e professore a Parigi, Roma e Napoli E' dottore della Chiesa Il sole è sorto alle 7.29, tramonterà alle 17.13 Oggi avremo cielo parzialmente nuvoloso in mattinata al nord, maggiori addensamente al centro-sud Dal pomeriggio è prevista una graduale attenuazione della copertura ad iniziare dal pesarese Avremo rovesci sparsi nella mattinata, più probabili nel settore sud della regione Marche Precipitazioni assenti nel pomeriggio ad eccezione di qualche fenomeno residuo sull'Ascolano Limite delle nevicate attorno ai 400-500 metri, localmente anche a quote più basse in occasione dei rovesci più intensi Le temperature sono in lieve aumento nei valori minimi, venti moderati da nord-est, forti lungo la costa Per giovedì 29 gennaio invece, cielo nuvoloso, molto nuvoloso, con precipitazioni nel pomeriggio Anche diffuse nelle zone interne dell'entroterra, vedete la neve con la possibilità di pioggia Insomma intorno ai 1100-1200 metri il limite delle nevicate Le temperature sono in aumento, venti moderati da sud-ovest Nelle zone interne a tratti forti, moderati da sud-est invece lungo la costa Il mare sarà da poco mosso a mosso Per la giornata invece di venerdì 30 gennaio Ancora condizioni di tempo instabile sulla nostra regione Con cielo nuvoloso, molto nuvoloso in mattinata Copertura in attenuazione nel pomeriggio Le precipitazioni saranno sparse, più probabili nella prima parte della giornata Con maggiori accumuli nelle zone dell'entroterra Sempre intorno ai 1200 metri il limite delle nevicate Temperature in aumento, eventi moderati, il mare sarà mosso Per i prossimi giorni, almeno fino a lunedì Previste sulle marche condizioni di tempo instabile Associate ad una graduale diminuzione delle temperature Ieri giornata della memoria a Fano, nella Sala Verdi L'incontro con Mamme Bavilat, quindi Miriam della Riccia, l'anagrafe Che ha parlato a una platea di 200 ragazzi Ha raccontato la sua storia di perseguitata La nostra Anna Franca dice e scrive il Carlino Salvata, poi tradita e sopravvissuta Quei 150 ebrei che a Fano risorsero in tre anni favolosi E poi sempre sul resto del Carlino La cronaca con il suicidio di un uomo di 47 anni di San Lorenzo In campo, in preda all'ennesima crisi depressiva Che si è buttato dal quinto piano dell'ospedale Santa Croce di Fano Ancora dal resto del Carlino Rilanciare le imprese, l'idea dell'assessore Per quest'anno 500 mila euro di fondi Parla Carla Cecchetelli che dice meglio un plafond Che gli sconti in bolletta Con questa ricetta si aiuteranno non solo gli operatori del centro Ma anche quelli di tutto il territorio Chi potrebbe beneficiare di questo plafond? Potrebbero beneficiarne aziende che devono adeguare le strutture energetiche I panifici, i ristoranti e le pizzerie Con forni che devono abbattere le emissioni Le procedure sarebbero più snelle Per partecipare i titolari dovranno essere in possesso dei requisiti Che verranno richiesti dai bandi redatti appositamente Domani l'addio al piccolo Francesco Il sindaco proclama il lutto cittadino La salma arriverà al mattino Poi alle 15 la cerimonia funebre del piccolo Francesco Maraschi Stroncato a 10 anni da una forma di meningite fulminante Alle elementari ieri ancora tante assenze Il medico parla di timori ingiustificati C'è la paura da parte dei genitori di far tornare a scuola i bambini I bambini che sono stati comunque tutti trattati con antibiotico e quant'altro Immediatamente dopo la diffusione della notizia appunto Del decesso di questo bambino Allora, regionali invece Sempre la politica con la corsa alla prossima campagna elettorale Regionali tra Minardi e Fulvi Spunta l'altro candidato Si chiama Federico Perini Federico Perini 33 anni ricercatore universitario Che per diversi anni ha guidato i giovani Dem Un piano nazionale per demenze senili Ben 180 ai partecipanti Il ruolo del centro Margherita Ancora dal resto del Carlino Da fossombrone, fossombrone buche o atti vandalici Denuncia via smartphone I cittadini fotografano e segnalano all'ufficio tecnico Un sistema adottato dal comune E ancora la indignazione per la fine di questo cagnolino Di cui vi abbiamo parlato ieri Balù denunce e analisi per i veleni Francesca Binda dice Ho portato dei campioni di polvere all'Asur Ho visto che negli angoli dove c'era prima la polvere È stata sparsa dell'acqua Ma io non voglio fermarmi Donna sola cade in casa Il vicino allerta i soccorsi È successo ad una signora di circa 90 anni Residente in via Lubiana a Pesaro E ancora sempre dal capologo di provincia Partono i lavori per l'Hotel Family Il Burevage ricostruito in legno Sarà collegato al Nautilus Filippetti investe altri 5 milioni di euro Circa 110 camere con servizi comuni E una politica commerciale più rivolta alle famiglie e ai gruppi E questo è il progetto appunto Che riguarda appunto il nuovo albergo Ancora dai quotidiani Adesso il messaggero La pagina di Fano Si getta dal quinto piano dell'ospedale Santa Croce È successo ieri verso mezzogiorno La vittima doveva prenotare degli esami Poi però ha deciso di farla finita Audizione alla Camera per la Fano Grosseto La parlamentare Ricciati di Sella Portavoce del Comitato del No Abbattere le barriere come segnale di civiltà per bene comune Poi sarà lutto cittadino per l'addio a Francesco Domani a Dorciano i funerali del bambino morto per la meningite La diagnosi iniziale ha trovato ulteriori conferme Dai primi risultati dell'esame autoptico effettuato nella giornata di ieri Siti in coda di polemiche tra la Lega e la sinistra a Fano Andiamo a leggere le altre notizie Sempre dal messaggero Tre assessori esterni nella nuova giunta L'aula vota l'intesa Il governatore Costi della politica ridotti Decisiva la nostra posizione Ricci del PD Mediazione di ampio respiro Massi del nuovo centrodestra Parla di grande risultato Intanto per il Quirinale Spacca Voto per l'unità nazionale Ricordiamo che Spacca è uno dei tre grandi elettori della regione Che appunto voterà il nuovo capo dello Stato Corruzione Nessun settore Da Pesaro è immune Lo storico magistrato Colombo Intervenuto al convegno di Marche Nord Da Tangentopoli ad oggi è cambiato poco Dice Colombo Il responsabile dell'azienda ospedaliera Monitoriamo i settori a rischio Dagli acquisti Alle prenotazioni delle visite E ancora Cresce la candidatura di Mocchi Comitato elettorale anche a Fano Decida Forza Italia in fretta E senza aspettare Spacca Ma il consenso crea qualche grattacapo Anche in casa Unione del San Bartolo e del Foglia Siamo i più grandi delle Marche Approvato lo statuto Dalle giunte di Pesaro Gabice Gradara Oggi tocca a Monbaroccio Ricci e i tre colleghi Parlano di giornata storica Piazza Muta Foto e sassi Per ricordare l'Olocausto Giornata della memoria Toccante ed evocativo Flash mob degli studenti A Pesaro in Piazza del Popolo Vedete Ecco il flash mob Quello che si chiama flash mob Una fotografia di gruppo Eccola qua Tutti nella stessa posizione In Piazza del Popolo Davanti alla Fontana Un toccante momento Per tutti Sulle pare Invece Opportunità Due comuni fuori norma Vallefoglia e Cartoceto Non rispettano La legge Del Rio A Fossombrone Mondolfo Neppure una donna In giunta Ma Esecutivo Nominato Prima della normativa Quindi sono Tra virgolette Giustificati Mondolfo Accusa Fano Poca collaborazione Affollata assemblea Con la giunta Cavallo Per fare il punto Sulle problematiche Emerse Dopo l'unificazione Tra Marotta E Mondolfo Ferrovia Fanurbino Rinviata La votazione Direi che Possiamo Fermarci qui Per quanto riguarda La rassegna stampa Di oggi Vi ringrazio Per averci seguito Vi auguro una buona giornata Vi ricordo che questa sera Nel nostro telegiornale Dopo il nostro telegiornale Quindi intorno alle 21 Trasmetteremo E questo lo dico Perché c'era Una certa attesa Soprattutto Chi ha già partecipato A questo incontro Questa sera parleremo Di un argomento Interessante Magia e satanismo Dopo le Dopo il telegiornale Di questa sera È un appuntamento Una conferenza Un incontro Che abbiamo realizzato Nella settimana scorsa Nella parrocchia Del Sacro Cuore di Gesù Di Centinarola di Fano Dove ha parlato Padre Dermin Che è un Domenicano Un francese Un esorcista E quindi è un argomento Piuttosto interessante Questa sera Quindi spargete Passate parola È tutto Grazie Buona giornata a tutti Arrivederci Grazie a tutti 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 Grazie a tutti